È stata intitolata alla memoria dell'Aretino Mario Mori la sala della lettura all'interno degli spazi della Casa dell'Energia di Arezzo. Questa è una cosa importante perché è un ricordo di mio nonno Mario Mori che è scomparso nel febbraio del 2019. Abbiamo voluto dedicare questa sala lettura alla sua memoria perché lui era una persona che poi era amante della cultura in generale ed era un uomo di grande levatura anche dal punto di vista del lavoro. Ci sono stati i maestri del lavoro che hanno appunto testimoniato questo. Devo dire che il luogo è importante qui Casa dell'Energia ex Fonderia Bastanzetti perché da sempre questo luogo è stato ed è dedicato al lavoro. Tante persone hanno prestato la loro opera qui dentro all'interno degli anni e le lavorazioni ovviamente all'interno di una fabbrica metallurgica erano veramente dure e quindi la loro attività è stata importante perché ha portato una testimonianza anche a livello internazionale perché la Fonderia Bastanzetti è stata importante per tutto lo sviluppo economico del Novecento Aretino.